buongiorno benvenuti nella magnifica cornice del mio studio siamo sempre qui nel mio studio oggi parleremo della spirale spiralata che abbiamo già visto in almeno un'occasione però siccome mi trovavo a dover realizzare un lavoro proprio con questo elemento funzionale decorativo molto importante nella tecnica wire ho deciso di riproporla alla luce delle nuove conoscenze no alla luce alla luce della luce alla luce della mia nuova esperienza rinnovata tutti i giorni in base ad errore e prove prove d'errore prove d'errore come sempre nella vita allora vi faccio vedere come ho realizzato questa spirale spiralata è molto facile ragazzi molto facile fate sempre delle prove fate delle prove io questo lo farò scrivere anche sulla lapide fate delle prove poi farò scrivere anche lunedì inizio la dieta tutorial sto spiralando il filo da 0,32 però tra poco non mi sarà più possibile sfruttare questo ago perché come vedete siamo a fine corsa quindi a fine corsa vuol dire che posso spiralare solamente un tratto un breve tratto di filo quindi continuerò a mano se volete ecco il motivo per cui vi mostro questo questo passaggio che se volete potete creare voi stessi un ago guardate come semplice in realtà quest'ago c'è una manovella potete se volete usare sì il gig il gizzo come si chiama e però creare un ago questo in particolare il più piccolo ed è quello da 0,95 millimetri e si può sicuramente inventarne uno un pochino più lungo non lunghissimo magari ma un po più lungo io intanto continuo a mano la prima cosa da fare è creare questo tubo questa prima spirale vedete attorno ad un corpo centrale come mi avete visto fare un attimo fa la lunghezza di questo di questo tubo come lo chiamo io dipende dal lavoro che dovete fare ci vuole molto filo per avere un tratto di spirale più lunga di questa ci vuole veramente molto filo e qui veniamo alla questione delle indicazioni circa il filo è difficile dire quanto filo di quanto filo avrete bisogno perché è complesso questo filo andrà avvolto attorno ad un altro corpo centrale quindi per quanto io sia certa che esistano formule matematiche per risolvere questi problemi secondo me dovrete andare un pochino ad occhio quindi mi raccomando fate delle prove con fili non costosi non costosi come questi per esempio questo è un silver field vi serviranno parliamo delle dimensioni del filo piuttosto che è molto importante io ho usato un filo da 0,32 equivalenti a 28 gauge per fare questa prima spirale che ho avvolto attorno ad un ago del diametro di 0,95 poi e sarebbe uno di questi figli eccoli qua poi abbiamo bisogno di un filo che entrerà nella spirale e piuttosto morbido sempre morbidi questi fili da 0,5 0,6 mm io ho 0,6 userò questo però anche 0,5 va molto bene e poi infine ci sarà un altro filo in questo caso da 0,8 su cui ancora andremo a spiralare ne mancherebbe uno tra questi fili ne mancherebbe uno ed è quello che fa la parte decorativa l'ultima la più semplice serve a decorazione andrebbe benissimo 0,4 che non ho quindi io adesso vedrò in base al risultato finale all'esito finale utilizzerò probabilmente lo 0,6 con molta probabilità oppure proverò con lo 0,32 che comunque non è male adesso vediamo quale sta meglio esteticamente io consiglierei però in effetti uno 0,4 quindi lo vedo qui è mancante in questa piccola serie ma andiamo per gradi questa è la spirale che ho creato con il filo da 0,32 ora all'interno della spirale dobbiamo fare passare il filo da 0,6 sono fili piuttosto morbidi è importante perché essendo questa una spirale che va spiralata su questo filo il quale va spiralato a sua volta su un altro filo voi capite c'è bisogno di una certa morbidezza anche perché i vari giri della spirale tendono un pochino ad allargarsi ovviamente come è immaginabile e quindi a scoprire un pochino il filo interno quindi meno si vede se si vede un po non succede nulla ma insomma meno si vede il risultato meglio è il risultato perché è un po più raffinato comunque cominciamo a fare questo lavoro mettiamo il filo da 0,6 all'interno purtroppo non c'è una formula o forse sì c'è una formula matematica per dirvi quanto filo da 0,6 dovete utilizzare perlomeno il doppio io vi dico perlomeno il doppio di questa della spirale che avete creato però è veramente a sentimento come direbbero i cuochi perché c'è poco da fare bisogna fare delle prove bisogna fare delle prove per saperlo io mi sono tenuto abbondante ho tagliato un filo di circa 46 cm so che è abbondante ma non vorrei rimanere poi a corto allora adesso prendo il corpo centrale ok sul quale faremo l'ultimo avvolgimento è un filo leggermente più grande più cioè con un diametro maggiore perché questo diametro di 0,8 mm ok e ora avvolgeremo questo attorno a questo ora porto la spirale verso una estremità lascio un pezzetto di filo eccomi lascio un pezzetto di filo questo poi lo taglieremo dopo allora prendo l'ultimo filo quello da 0,8 potrebbe andare bene anche 0,7 allora a cui lo attorciglierò mi è scappata l'estremità torna ecco qua allora adesso avvolgo questa estremità attorno a quest'altro filo farò un paio di giri di sicurezza in questo modo così e poi ancora prima di tagliare magari trascino avviciniamo le estremità allora adesso porto la spirale alla fine vedete e comincio ad avvolgerla dunque io vorrei però fare una cosa che è quella di bloccarla un po' in posizione eccomi questo piccolo circoletto che poi sistemerò il filo è molto morbido quindi non dovrei avere problemi a rimetterlo in forma mi serve per non fare fuggire tanto la spirale insomma come presa come maniglia allora quindi tratteniamo la spirale e cominciamo ad avvolgere ecco possiamo dire che questo è tutto quello che c'è da fare perché dobbiamo arrivare alla fine facendo proprio sempre lo stesso movimento quindi arrivo alla fine eccola qui la spirale spiralata vedete ora facciamo l'ultima parte che è quella decorativa ora io consiglio di utilizzare un filo da 0,4 forse addirittura anche 5 nel mio caso devo utilizzare lo 0,3 quello in mio possesso però vi assicuro che l'effetto estetico c'è e c'è lo stesso la prima cosa è verificare la direzione la direzione dei fili cioè c'è una direzione che deve seguire il filo che coprirà i solchi tra i vari giri perché il filo lo metteremo in questa maniera lo disporremo in modo da coprire i vari solchi ok quindi dobbiamo verificare che sia la direzione giusta una volta fatta perché potrebbero anche andare in questo senso i giri una volta fatta questa verifica non dobbiamo fare altro che fermare il filo più corto eccomi qui fermarlo facendo un paio di giri vediamo ok un paio di giri per fermare per bloccare in posizione il filo breve dopodiché qui io mi dovrò avvicinare moltissimo fare passare il filo tra i solchi ok quindi adesso io indosserò il super paio di occhiali di cui dispongo cominciamo dai primi ok cioè quelli del filo da 0,8 poi piano piano gradualmente andremo a collocarci ecco qui spero che si possa vedere spostiamoci tra i solchi vedete passo in mezzo alla spirale ai giri di spirale la tensione più o meno deve essere sempre la stessa se no qualche giro di filo entrerà di più e qualche giro sarà più in superficie e magari si sposterà e vado avanti in questa maniera si sposterà dalla posizione in cui è intendo dire quindi passo anche ho lasciato un minimo spazio perché potesse passare anche qui in questa posizione un pochino più sfortunata poi fermo con un paio di giri naturalmente poi aspetta a voi dipende da che cosa volete fare da che tipo di destinazione avrà questo elemento per nascondere meglio intendo le estremità tagliare il filo nasconderlo fare giri più brevi insomma dipende però questo è l'elemento terminato come è andata non è assolutamente difficile variate lo spessore dei fili per vedere l'effetto sempre diverso di questa tecnica che può essere più leggera più sottile può dare un pezzo cioè più leggero più sottile più armonioso e qualche volta invece invece più 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 forte più come dire più evidente dipende da cosa se ne vuole fare intanto seguite gli altri tutorial io torno qui venerdì torno qui venerdì e mi raccomando siateci 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 ciao grazie grazie